Apri al pubblico l'unico ente regionale finalizzato alla diffusione delle fonti orali. Pineto ha il Museo Civico della Musica Popolare Abruzzese. Il Centro Etnomusicologico d'Abruzzo è stato presentato questa mattina e diventa Museo Civico. L'istituzione del prestigioso ente conclude un iter avviato nel 2008 con il primo allestimento realizzato grazie a un finanziamento regionale di 25.000 euro. Unico nel suo genere per la valorizzazione delle fonti orali, il CEDA ha la sua sede all'interno di Villa Figliani. In tre stanze i beni etno-antropologici che andranno a comporre il cuore del progetto. Questa vetrina che è il museo c'è dietro un lavoro di ricerca, una ricerca effettuata da anni, io ho iniziato nell'82. Ma ci sono anche ricercatori che hanno documentato la tradizione orale partendo dagli anni 60, come la raccolta, il fondo del professor Giuseppe Profeta che è una raccolta di grande valore. Punto di riferimento regionale per il recupero e la conservazione, nonché la promozione della musica di tradizione orale abruzzese, il CEDA offre un contributo per la crescita culturale e la condivisione di questo genere di musica. Lei ci teneva? Ci tenevamo tantissimo perché Carlo Di Silvestre, il nostro direttore, è da anni che sta lavorando su questo processo e percorso di ricerca di musici antipopolari ed oggi è a disposizione non solo dell'Abruzzo ma di tutta la nazione e tutta l'Italia. Il centro ha ideato una rete regionale della musica popolare dove i gruppi avranno la possibilità di condividere gli stessi interessi attraverso il confronto, lo scambio di riflessioni e l'approfondimento di tematiche inerenti, l'etno-organologia e i repertori. C'è lo spazio riservato anche ad alunni e studenti per i quali sono previsti percorsi guidati e momenti di approfondimento, con seminari, convegni, laboratori, incontro con studiosi, suonatori e costruttori di strumenti musicali artigianali. Infine il CEDA propone Ascoltate tutti quanti una serie di concerti didattici a tema da concordare e realizzare nelle scuole d'Abruzzo. Conoscere le proprie radici innanzitutto è fondamentale per arricchire il proprio bagaglio culturale e rendere specialmente le nuove generazioni consapevoli di questo attaccamento alle proprie radici.